felici per la vittoria dello scudetto della roma femminile non so proprio che dire però siamo contenti se vince no ha vinto oggi lo scudetto ha vinto e allora siamo campionati la roma ha vinto lo scudetto a roma femminile siete contenti? contentissimi certo grande soddisfazione ormai le ragazze comunque è diventato un movimento molto importante molto importante la mia ragazza è milanista e io sono romanista quindi insieme allo stadio sperando che non si litiga che vinca il meno forte cioè noi e chi è decisivo stasera? stasera si gioca di bala perché no magari grazie la roma femminile ha vinto il campionato siete felici? contentissima meno male almeno quello la roma femminile ha vinto il campionato siete contenti? sono state bravissime sono state veramente grandi ragazzi la roma femminile ha vinto il campionato e festeggiamo le ragazze auguri alle ragazze ragazzi la roma femminile ha vinto il campionato siete contenti? felici? grandi ragazzi speriamo che porti fortuna anche però speriamo che facciamo lo stesso anche noi oggi grazie ragazzi la roma femminile ha vinto il campionato siete contenti? avete seguito? contenti perché se lo meritano sono veramente delle ottime giocatrici e sono veramente contento per loro speriamo ribizzare anche con i maschi prima o poi ragazzi la roma femminile è campione d'italia siete felici? felicissimi avete seguito il campionato? anche lui è il campionato sì 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 grande roma le donne più forti degli uomini sempre ricordatevelo ragazzi la roma femminile ha vinto il campionato siete felici? la roma femminile ha vinto il campionato? forza roma forza roma sempre tocca a vincere la paligmo magari ragazzi la roma femminile ha vinto il campionato siete contenti? forza roma forza roma siete felici che la roma femminile ha vinto il campionato? guarda sinceramente volevo andare pure a salerno però purtroppo non ci sono riuscito ad andare no salerno a roma primavera ho sbagliato però va bene ho fatto è importante volevo andare a vedere la roma primavera però anche la roma femminile assolutamente il calcio femminile ha preso veramente possesso la roma della posizione di alta classifica sono contentissimo grazie speriamo porti bene anche per i maschi non voglio parlare prossimo anno mai l'Europa League c'è sempre da vincere non parliamo dai ciao ciao